Ciao a tutti! Anche il video di oggi è una riedizione di un vecchio video che avevo caricato su questo canale più di un anno fa. Era un'idea per realizzare delle decorazioni per l'albero di Natale, con questo motivo a spirali colorate. Adesso Natale è passato, ma credo che l'idea rimanga comunque valida, perché con lo stesso sistema, magari riprodotto più in piccolo, potete fare sia dei ciondoli che degli orecchini. Allora, prima di tutto ho steso una base di pasta polimerica bianca, poi sono andata a creare delle piccole Skinner Blend in vari colori. Questa qui varia dal bianco all'azzurro e se avete visto come l'ho iniziata, l'ho iniziata come una Drop Blend e troverete spiegato sommariamente questo sistema nel tutorial della collana Millefoglie. Eventualmente poi vi metterò il link nell'info box, se mi ricordo, altrimenti ricordatemelo voi. Comunque sia, ottengo un rotolino di pasta sfumata dal bianco all'azzurro e vado ad avvolgerla a spirale sulla mia base di pasta polimerica bianca. La base in pasta polimerica bianca è ottenuta stendendo due volte la pasta allo spessore maggiore della macchina della pasta, proprio perché volevo che queste decorazioni per l'albero di Natale avessero una certa consistenza e quindi un certo spessore, perché sono anche piuttosto grandi, quindi visivamente non mi piaceva che fossero troppo sottili. Però se state realizzando degli orecchini o dei ciondoli potete anche utilizzare una base più sottile. Adesso ho fatto la stessa sfumatura, però andando dal magenta al bianco. Io sto utilizzando dei colori della Premo e l'azzurro era qualcosa tipo il color jeans. Questo fucsia non me lo ricordo, comunque dovete cercarli nella gamma della Premo. Io purtroppo non ho l'abitudine di segnarmi tutti i codici dei colori. Quando la seconda spirale va a incrociare la prima, dovete avere la pazienza di tagliare un pochino tutte le linee della spirale. E questo poi, man mano andando avanti nella lavorazione, si complicherà quando andremo ad aggiungere altri spirali che si accosteranno alla prima e alla seconda. Io adesso sto facendo una terza spirale e ho fatto una skinnel blend dal color azzurro jeans al color magenta. Andrò ad arrotolare quest'altra spiralina vicino alle precedenti e la andrò a tagliare e a far proseguire sul bordo e quando incontra le due spirali precedenti. Il procedimento è molto semplice, si ripete per tutto quanto il ciondolo, potete farlo con dei rotolini di pasta più o meno sottili. Io ho scelto di utilizzare questo spessore perché era quello che mi veniva più regolare facendo questi tubicini a mano libera. Però vi do un altro suggerimento, potete anche fare questi tubicini con l'estrusore. Io ho soltanto il primo tipo di estrusore con cui si fa molta fatica, però è uscito da diversi anni già un secondo tipo di estrusore a vite della Mekins con cui si fa molta meno fatica e sarà uno dei miei prossimi acquisti. Adesso ho fatto un rotolino che va dal colore rame al colore bianco e vado a fare la stessa cosa che ho fatto per i rotolini precedenti e quindi a creare una quarta spirale. Potete fare queste spirali grandi quanto volete fino alla grandezza desiderata del ciondolo. Io ho avuto quest'idea guardando la foto di un altro artista su Flickr, però non so il metodo che ha utilizzato e mi sono ingegnata per riprodurre questo effetto a modo mio. Adesso, una volta posizionate tutte le spirali che mi vanno a riempire la forma che dovrò andare a tagliare, in questo caso io vado a tagliare un fiocco di neve, però potete anche andare a tagliare un cuore o altre forme, quando avrò riempito tutto lo spazio, potrò andare a imprimere la mia formina sulla sfoglia di pasta così decorata. Io ho controllato che mi riempisse tutto lo spazio e sto andando ad aggiungere i rotolini di pasta lì dove so che mancava. Quando vado ad aggiungere dei pezzettini molto piccoli di pasta tra una spirale e l'altra, specialmente quelli triangolari, in quel caso mi vado ad aiutare con uno stuzzicadenti o con il buca perle per mandarli bene, inserirli tra le diverse spirali, mandare giù gli angolini che fuori uscirebbero. Adesso ho quasi riempito, vado via via aggiungendo soltanto i pezzettini che servono per riempire tutte le punte del mio fiocco di neve, e poi lo taglierò. Quando andate a tagliare la vostra formina, fate attenzione a fare la stessa pressione su tutti i lati della formina, in modo che venga tagliata in tutti i punti dove serve, altrimenti rischiate di trovarvi un ciondolo tagliato solamente in parte, e poi è molto difficile riposizionare la formina nello stesso punto rispetto al precedente. Quindi fate attenzione che la formina scenda attraverso tutti gli strati di pasta. Ecco, sto inserendo gli ultimi triangolini e mi sto aiutando anche col cutter. Adesso il fiocco di neve è pieno, quindi vado a fare pressione con entrambe le mani e mi assicuro di aver tagliato bene tutto il bordo. Se doveste avere qualche problema e quindi magari non avete tagliato bene il bordo, potete aiutarvi con un cutter. Qui ad esempio una delle punte non era venuta bene, sono andate a recuperare le striscioline di pasta e le sono andate a rimettere sulle punte per farle venire belle decorate fino alla fine. Adesso se volete semplificarvi la vita di Samo, potete interrompere qui la vostra lavorazione e fare un buco semplicemente per il vostro ciondolino. Oppure andare avanti nella lavorazione, come sto facendo io, ed aggiungere un'ulteriore rifinitura. Mi sono creata una sfoglia di pasta bianca molto sottile ed andrò a mettere un bordo tutto intorno al mio fiocco di neve. Questo bordo in questo caso io l'ho fatto bianco, ma per altri ciondoli e per altre decorazioni l'ho fatto anche in altri colori. Magari se state facendo qualcosa che volete indossare, stacca molto bene con i colori anche il bordo nero oppure volendo potete fare un bordo a righine. I bordi a righine si usano molto in questo tipo di ciondoli piatti con le paste polimeriche e danno un'ottima resa perché fanno spiccare anche la lavorazione all'interno. Farò vedere come si fanno questi bordi a righine, in realtà l'ho già fatto vedere in un altro tutorial dove faccio vedere la lavorazione del fimo tipo a maglia e vado a bordare alcune decorazioni con il bordo proprio con le righine. Sarà un altro di quei video che dovrò andare ad editare perché probabilmente me lo avete già sentito dire però nei video originali non c'era la narrazione ed erano troppo velocizzati. Quindi sto andando a editarli tutti quanti con la narrazione e rallentandoli un pochino per renderli più comprensibili. Come vedete ho posizionato il bordo tutto intorno alla mia decorazione e visto che il fiocco di neve ha molti spicoli sono andata a spingerlo bene con lo strumento per modellare in plastica rossa. Ho fatto poi altre decorazioni con questo metodo, ho fatto il cuore, il fiorellino, l'albero, l'angioletto in alcuni casi sono andata a fare tutta una serie di puntini e di lineette sulle spirali e l'effetto decorativo è molto bello e li ho utilizzati anche per decorare alcune cornici. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile, se avete delle domande scrivetemi sotto nei commenti. Adesso vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao ciao!